I maestri del lavoro hanno voluto premiare l'impegno della Polizia Municipale di Pescara in un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti. La consegna della targa sancito la bontà del rapporto di collaborazione con la Municipale che, come ha spiegato il console di Pescara della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, Luigi Clemente, ha sposato con entusiasmo il progetto Scuola Lavoro e Sicurezza denominato E' nato una stella per la scuola, che in cinque anni di attività ha coinvolto nella provincia di Pescara e anche fuori circa 16.000 studenti e 1.200 docenti. L'obiettivo è educare al rispetto delle regole del Codice della Strada, mettendo in evidenza la pericolosità dell'abuso di alcol e droghe per chi si mette alla guida. Nell'arco di tre settimane abbiamo relazionati 750 giovani studenti nel quarto e quinto anno di cinque istituti scolastici e ha la presenza di 45 docenti. Quindi è stato un successo, anche se è stato un po' un tour de force. E' stato spiegato che la vita, l'utilizzo dei mezzi a livello moto, a livello macchina, è un problema che va affrontato non per giocare, ma affrontato con determinate cognizioni di causa. Quindi il luogotenente di Matteo ha spiegato tutto ciò che occorre per una buona guida e per una buona sicurezza. Quindi contro l'uso dell'alcol, l'uso di stupefacenti durante la guida.